ciao a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo video oggi siamo qui con david 2 bella e ne ha forse 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 forsissimo non si sa se sono io potrei essere io come al solito un po testa perché un po per loro non può nessuno ok perfettiamo anche la chitarra prima stavo dicendo prima di venire qua hai mangiato e mangiato ma roma strana ma c'è sempre merda ma non mi ricordava di avere avuto 3 per cena che mi sei mancato sai che coglioni ma se di cinque gioco c'è una competitiva cs merda merda che c'è il round ma che roxana è presente il round quello riscaldamento riscaldamento vai nello spawn sponchi va bene ok dopo la cazzata dopo la cazzata possiamo andare avanti tranquillo perché non mi ha dato la chitarra il chitarra troppo avanti nei primi busti era un coglia un coglia 1 cosa fa cosa fa che si scrive la coglia 1 ma chi cazzo ehi è il grande roxana rossana l'anno la pochissima vita perché non c'è il nome in cui si mettono anche lo c'è lo viso e curami non mi vuole curare avrà non stesso se comunque ragazzi è da un po che giochiamo alle forbe è vero già troppo della padella che lo poi bisognava il farlo come poi non poi arriveranno di cucina proprio delle innovazioni pesanti sul nostro canale dato che sia io che davide 1 avevo ricevuto ps4 a manetta sono davide 2 lui sarebbe sempre da chiamarti che ne so uso quello che aveva già finito ma come todos day come si 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 guarda che pelli guarda il xana todos day introverte la muoversi scambio della guardia vado vado io sto giocando con una luce luce si una luce ripartiamo con la scuola parliamo ripartiti un piccolo errore tecnico se tua mamma non mi prende il fucile non so che sto giocando con rochelle prove a caso vabbè cambiamo con la padella sì mentre vuoi scegliete padella o meno si ma devi stare calmo io so calmissima e pistola guarda guarda ancora vivo è un po morto seguiamo questo ma perché vale in tonina perfetto oddio uno zombie col juggernaut c'è la zambi quello forte la zambi cosa guarda ti piace ti piace che ti piace il padella guardavo al muro ccazzo qua che cazzo ok ok aspetta stai vicino all'ellis che ti cura ellis ellis all'essere diretti vicino ti cura ragazzi lo splitter perfetto no da mercato aiuto arrivo alla deserti colpa e ciò come parli un minore incoglionito paesi e giù ma prima di oggi non mi serve solo così a me e lo splittera guarda che avviva dove arriva quello che non è capace cosa fa? si ma non è possibile spalati in testa va bene, di qua mi sa andate veloci, non è stato di qua zame ma ci sono già stati qua sento una strega eh, una strega la witch il randello è il randello am50 il maggiata mortale sbloccava man999 si chiama la Incredible mi hanno prezzo aiuto 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 Che che ha svegliato la witch? Di vitalizzati, vai Sì, ma siete degli handicappati E solo io sto cercando aiutare Ma aiutare cosa? Perché Roxanne è utile quanto il boggio del culo Guarda, salvo Alice prima di Roxanne Guarda, sali, vieni Dai, che ce lo fai Sì, dai Sì, alzati Sì E gli spari Mi arresta solo la morte Attenzione Si è alzato Sì, alzato No, non capisco finemente Ho così tipo con le mani Heartless è questo, sì Posto C'è Heartless, non Heartless Scusami se è il nome di mille canzoni Eh, Dede Pochi Senti, no, rompermi con te Eh, le canzoni Eh, tutti mi dicono Wow, wow, wow Comunque stavo dicendo E devo cambiare il nome sul canale Del canale sul canale E quindi da video tu non va più bene No, sennò poi si fa confusione Dede Pochi Ma vai a cagare Tux Wonder Oddio Eh sì, certo, com'è qui c'è Tux Wonder What? Ma non ti fai Sì, mi fa presto Un po' tamarro Non so come dirmi Vabbè, il mio nome Sui, sui giochi Il mio nome Sì, giochi è il mio nome Sui giochi Se no c'è Mainclover Ah, anche io C'è Anch'io mi chiamo Desbrook Sui giochi Aiuto 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 Vabbè va bene Diciamo che Heartless è un po' nei cazzi Cosa sta facendo Cosa cazzo fa? Ma che cazzo sta facendo Roxana Ragazzi, ma Roxana è inutissima Madre, vi vedo Vi vedo ragazzi Oh, io è inutilissimo, non so Oh, sì Vai che ci libera a fondo Vai, Heartless Ehm, va con la desert Minchia Che fallo Eccoci Sei, si è intornati più forti che mai Che non trovi neanche la porta Mi è intornati voi ma voglio io Dove sei? Stai fermo Oddio, oddio Quelli con Juggernaut Ragazzi Una mano Una sola Che raggiunta la granata? Ti ha fatto bene? Chi è lì? Non lo so Mamma Ha fatto una straga Dai, vai qua Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ok, esami Volevo Voglio fare un trasfacco mal riuscito Oh, cos'è sta roba? Resta merda Chiudiamo Quando dentro al perimetro L'armi sono là Ok? Cazzo, andiamo a chiudere l'alarme Andiamo... Volevo spegnere Chiudete la roulotta Che non ci... No... Ragazzi Non si può Ragazzi Vengono qua da dietro Ragazzi da dietro Eh? Da dietro Da dietro Da dietro C'è un behind Fido Fido Che giudere schifo Che vuole santo? Perché vuole santo? Perché vuole santo? Perché vuole santo? Perché cazzo? Perché roxana è andata al culo? Perché roxana è una minchia setto Una minchia Dovete russare Dovete russare Dovete correre verso il russante Dovete russare all'allarme Vai le M4 Basta Un M4 La pia Posso? Si sta buggando Non mi sei... Non mi sei muato Ora si gioca bene Guarda questo Guarda questo Lo aveva col marcese Dai fammi passare No Due poliziotti Vai dai scappa 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 Non riesco Mi blocchiano Aiuto Ragazzi mi date una mano invece di fare i handicappati E adesso deve Oh Figlio è tutto C'è un muro Non riesco Guardami Ma perché siete indietro? Perché c'è un muro invisibile Ma che cazzo C'è un muro invisibile 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 Cazzo Ci credo che poi mi blocco Porca Eva Questo qua è questo Il muro invisibile Muro invisibile Oddio Ragazzi giochi Ragazzi 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 Che palle questo Userei dire meglio Sento che però veramente quella parte lì è veramente carina Cazzuta Proprio a caso Vai sali sali veloce Ragazzi finchè non spegniamo l'allarme Così continuo ad arrivare E lo sto facendo Vai muoviti No ragazzi Ragazzi Dovrebbe riuscire Vai Perfetto Meno male che c'è Alice Ma cosa E adesso Basta I due ritardati che arrivano Curatemi un attimo che mi sto curando Ok Sono tornato più carico di prima Mi sono bancato dentro Ma a sinistra ce le fate Qua Di quale Ragazzi venite qui Dove cazzo vai Vai a vedere se sei lì No No È chiuso È chiuso Che cazzo sei? Guarda 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 un attimo Visita un po' che cazzo fai no non c'è niente non avevo mica notato ah lì qua magari c'è la stanza sicura si sei fa una molotov lì che cazzo ci faccia eh vabbè vabbè mi han preso aiuto ne hanno preso tutti perchè hai lanciato una molotov perchè a me piacciono le molotov c'è un caglione anche te però vedo che aiuto sei stronzo perchè hai lanciato la molotov ragazzi c'è la safe house di là se non morite prima cazzo vai correte correte non dovete stare indietro mmm che pari è pieno di zombie eeeh dov'è la safe house? e' lì avanti aspetta che ricarico tutti i colpi dai vai corri corri corriamo andiamo cioè corri i pulmini hai finta di correre perchè lo splitter eh fantastico io 7 di vita ci morirò vai 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 corri corri non fai vai altissimo noi siamo lentissimi perchè avessi atti di vita ho visto 3 l'ero 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 l'ta 3 l'ero l'ero l'a c'è eccola andiamo e chiude la porta eh no no non voglio di vita ma che cazzo amico quelli oh siii abbiamo visto eh lì è lì cosa facciamo là lì prima idea ma io direi che per oggi tutto perché c'è l'aldisco piange il primo episodio è durato poco la prima parte è durata così ma la seconda è durata quindi direi che per oggi tutto come al solito mi invitiamo a mettere un mi piace e un commento e iscrivervi la mette in piaccia la pagina di facebook di iscrivervi al canale è gratis è gratis non è vero non è c'è una tassa una piccola tassa mia sopra si fa che non è di 89 centesimi ma equivale alla tasca del playstation death certo quindi da andrea da davide 2 è tutto ciao 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 ciao